Adesso non si scherza più, è chiaro l'avviso del sindaco di Montesilvano De Martinis pronunciato oggi in conferenza stampa e rivolto a chi abbandona i rifiuti per strada. 20 fototrappole mimetiche di ultima generazione dotate di sensori di movimento saranno poste a rotazione in diverse zone della città per immortalare anche di notte chi non smaltisce correttamente i rifiuti. Insieme all'alta velocità, alle deiezioni canine e appunto all'abbandono dei rifiuti queste risultano essere le tre richieste che più di tutte i cittadini mi fanno da quando sindaco e devo dire che al primo posto c'è proprio l'abbandono dei rifiuti e il servizio che da oggi verrà implementato in città è un servizio molto importante di contrasto appunto a un fenomeno tristissimo che rende la nostra città meno pulita, meno decorosa e da un punto di vista turistico anche meno attrattiva. Le fototrappole sono offerte in comodato d'uso per due anni da Formula Ambiente che si occuperà anche della loro manutenzione. Per i cittadini che trasgrediscono è prevista una sanzione amministrativa di 309 euro mentre le ditte che abbandonano i rifiuti incorrono in un reato. Oltre la metà dei verbali della Polizia Municipale è nei confronti di cittadini non residenti a Montesilvano. Per questo tramite riconoscimento facciale e identificazione delle targhe saranno controllate soprattutto le vie d'accesso alla città, come spiega il comandante Casale. L'obiettivo primario è quello di debellare un fenomeno che è diventato a dir poco stucchevole, l'abbandono dei rifiuti sulle strade. Quasi il 60% è gente che viene da altri comuni limitrofi a fare gli abbandoni a Montesilvano. Questo è un dato oggettivo che abbiamo delle contravenzioni che abbiamo fatto negli anni precedenti.